Allora, siamo arrivati qui al parcheggio del Pasquiglio. Andiamo a provare il drone. Andiamo a provare il drone, andiamo a fare qualche ripresa Montecalchio, che dici? La zona del Folgorito. Ora qui dal parcheggio parte il sentiero, ora qui c'è molta luce, non riesco, però insomma da qui parte il sentiero. C'è anche la neve oggi. Qui c'è la deviazione, che vai al Folgorito e di qua si va verso il carchio. Andiamo. Bello il Folgorito, raggiù è il Folgorito. Facciamo partire il drone da qui. Grazie a tutti. Allora, siamo arrivati qua un pochino più vicino alla cima e proviamo a fare una ripresa, a fare altre riprese qui sul Monte Carchio. Questa è la cima e di qua ci sono le altre montagne, il Monte Sagro e tutta il mare. La Palmaria, Porto Venere, dopo il fuo di La Spezia e di qua. Purtroppo non si vede ma c'è la parte della costa di Vareggio. Purtroppo non si vede ma c'è la parte della costa di Vareggio. Purtroppo non si vede ma c'è la parte della costa di Vareggio. Grazie a tutti. Allora, con questa ripresa del tramonto, le riprese del drone le abbiamo finite, si rientra come finisce il video?